Ciao e bentornato nuovamente al mio canale, se sei un nuovo benvenuto e quindi iscriviti al canale, clicca sulla campanella, metti un bel like e lasciami un commentino qua sotto per farmi sapere che cosa ti è piaciuto del nuovo numero di Burda Style Sì perché oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Style di luglio 2022 ed è un numero bellissimissimo, mi è piaciuto veramente tantissimo come ogni mese lo sfogliamo insieme Fammi sapere se comprerai il numero, quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, quelli che vorresti fare, quelli che vorresti che io facessi, non a tutorial perché io non sono in un momento in cui riesco a fare i tutorial però quali vorresti che io facessi per farti vedere poi la resa dell'abito, se riesco anche a cucire perché in questo momento non riesco neanche a cucire dal caldo ma si spera che farà un pochettino più di fresco, è illuso, è comunque bando alle ciance e andiamo subito a vedere insieme, a sfogliare insieme Burda Style di questo mese e mi raccomando lasci un commentino, ciao e al prossimo video L'abito è il numero 103, è un modello facile, molto molto carino, le taglie vanno dalla 36 alle 44, un pallino su 4 di difficoltà, fresco, leggero e anche facile da realizzare è l'abito che è stato realizzato in quadretti bianchi e blu, quindi proprio estivo al massimo che si può utilizzare per andare al mare, per andare a fare la spesa, per andare a prendere un aperitivo insomma si può utilizzare al massimo con tanta fantasia, cambiando gli accessori è caratterizzato da fitte a ricciature sulle maniche e fascia al punto smock in vita e trovi nel mio canale un video dove ti faccio vedere come si fa il punto smock a macchina i pantaculotte che vediamo qua sono il numero 120, le taglie vanno dalla 72 all'80 all'88 sono 3 pallini su 4 di difficoltà, sono sportivi ma nello stesso tempo veramente molto carini mi piace l'idea di inserire nella vita la corda, è veramente un'idea che non mi era mai venuta in mente non avevo mai visto da nessuna parte e mi piace tantissimo mi voglio procurare una corda e 9 veramente molto bellini, molto belli con queste righe poi a me piacciono molto i quali righe, quindi veramente super top infatti richiama anche lo stile francese che mi piace molto short numero 110b, le taglie dalla 36 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà sono leggermente svasati, hanno un taglio semplice lineare ma sono arricchiti da piccole perline di legno che sono state cucite sui motivi del tessuto stampato, ovviamente noi li possiamo mettere o meno a nostra scelta e sono veramente molto carini e super adatti e super adatti per l'estate mentre qui abbiamo un abito che è il numero 102, taglia dalla 36 alla 44 a 2 pallini su 4 di difficoltà ed è un abito prendisole ed è un must have della stagione estiva qui è proposto infatti in leggero chambré, effetto jeans caratterizzata una lunga abbattonatura nel centro davanti corpino a vita alta con bordo scassa agomato ed è un capo veramente molto molto carino e fresco maglia 112, le taglie dalla 36 alla 44 a 1 palline su 4 di difficoltà ed è perfetta, realizzata così in un tessuto molto leggero da poter indossare anche in spiaggia sopra il costume veramente molto molto carina si può fare anche più lunga volendo creando proprio una sorta di vestito pareo ecco, e qua invece abbiamo una casacca che è il numero 116, le taglie dalla 36 alla 44 a 2 pallini su 4 di difficoltà ed è caratterizzata da questi nastri che contornano la scollatura che la rendono molto originale e carina come idea ha la linea ampia e dritta la gonna midi è la numero 104 le taglie 36 a 44 a 2 pallini su 4 di difficoltà ed è un modello comodo quindi rimane bello largo non è aderente quindi facilita i movimenti soprattutto nell'estate che sudiamo veramente tanto e quindi abbiamo caldo abbiamo bisogno di essere comode stare comode abbiamo bisogno di tessuti freschi leggeri che ci tengano fresco ed è caratterizzata questa fascia nodata in vita ed è cucita nei fianchi molto molto carina mi raccomando questo non è un modello adatto a chi ha un po' di pancetta in questa pagina abbiamo il top che il numero 119 ha taglia 36 a 44 a 2 pallini su 4 di difficoltà è un top che è stato realizzato in jersey che lascia scoperte le spalle ricadendo in un morbido drappeggio che avvolge la figura sicuramente è un capo molto particolare io per esempio non sono per indossare i capi del genere però è veramente molto molto bello è anche originale abito numero 101A questo mi piacerebbe rifarlo mi piacerebbe rifarlo ed è una pallino su 4 di difficoltà ed è un modello ovviamente facile ecco è un abito medi che lascia completamente scoperte le spalle si può indossare anche questo in vari momenti della giornata cambiando gli accessori questa è una cosa che io dico sempre cambiando gli accessori cambia tutto ovviamente anche il tessuto che viene utilizzato se utilizziamo un tessuto diciamo colorato come questo più adatto alla spiaggia a un aperitivo mentre in un colore diciamo più elegante come può essere il nero per esempio o un colore comunque unico con un unico in un unico colore rimane più elegantino anche per andare a mangiare una pizza andare a mangiare fuori la sera scuola di cucito della casacca che abbiamo visto prima passo passo come vediamo abbiamo tutta la scuola di cucito e anche di questa abbiamo la scuola di cucito questa bellissima giacca è la numero 117 le taglie della 34 a 44 e acqua a tre pallini su quattro di difficoltà è ben sagomata ricorda le giacche chanel è caratterizzata a questi bottoni in ore un oro che riprendono il colore diciamo del tessuto priva di collo con allociatura invisibile la tunica è la numero 114 tagli 36 44 a tre pallini su quattro di difficoltà ispirazione anni 70 è stata realizzata in chiffon le maniche sono lunghe e sono racchiute da polsini a fiocco che la rendono molto particolare qua abbiamo la gonna che abbiamo visto prima che è la numero 105 taglia 36 44 a due pallini su quattro di difficoltà è una gonna a tubino quindi le mie preferite ed è caratterizzata da una morbida baschina effetto fushacca che è inserita nelle cuciture quindi è proprio cucita e possiamo fare un bel nodo come abbiamo visto prima nell'altra gonna e come nella tracona ti ripeto che bisognerebbe evitare che venga indossata anche un pochettino di pancetta perché chiaramente la enfatizzerebbe abito numero 107 va dalla taglia 36 e la 44 e a tre pallini su quattro di difficoltà è particolare perché è un modello che richiede un po' di impegno non è un modello di facile da realizzare ma che veramente sta benissimo indossato a tutti i tipi di fisico ha il corpino che è incrociato con spalline arricciate e ampie e gonna a gode un abito da principessa caftano numero 115 taglia 36 44 a due pallini su quattro di difficoltà è super comodo anche nelle giornate più calde il caftano per andare al mare per diverse occasioni della giornata ovviamente ed è più facile ovviamente di facile realizzazione il top numero 108 bit agli a 36 44 a due pallini su quattro di difficoltà è stato realizzato in raso di seta con spallini sottili e di proporzioni minimal e questo non dovrebbe mancare nell'armadio di ogni donna anche perché lo possiamo utilizzare per metterlo diciamo sotto per esempio una maglietta con il pizzo oppure leggera trasparente oppure sotto una giacca non dovrebbe assolutamente bancare quindi tutti dovremmo farci questo modello e qui vediamo un abito 101 bit agli a 34 42 a un pallino su quattro di difficoltà che abbiamo già visto precedentemente e come vedi utilizzando un tessuto diverso l'abito ha proprio l'immagine di un abito più elegante con questa stoffa pazzesca bellissima mi piace veramente tanto ed ha uno spacco laterale ovviamente volendolo possiamo fare anche più corta se la vogliamo più corta dipende insomma dai nostri gusti qui abbiamo la spiegazione della giacca ecco qua tutta la spiegazione come lavorare gli spacchi laterali questo è una scuola di cucito che ci può essere veramente molto molto utile per imparare qui invece abbiamo le taglie corte abbiamo il top 108a taglie 36 44 a due pallini su quattro di difficoltà e la blusa la numero 121 la vediamo qua taglia 17 21 a due pallini su quattro di difficoltà rimane con una linea corta e squadrata più stretta all'orlo e anche perché ha queste pants verticali sul davanti ed è stata realizzata in poliestro un tessuto di poliestere pantaloni bellissimi direi a me piacciono molti pantaloni infatti così sono il numero 109 taglia 36 44 a due pallini su quattro di difficoltà il taglio è molto ampio formano un completo glamour con il top nello stesso tessuto ma saranno bene anche con una shirt in tinta unita assolutamente sì oppure li possiamo fare direttamente in tinta unita anche i pantaloni questi veramente sono adattissimi per l'estate perché rimangono davvero molto freschi e stanno bene un po' a tutto la blusa la numero 113 taglia 36 44 a due pallini su quattro di difficoltà mi piace tantissimo è una blusa molto particolare come vediamo è ricchissima una blusa bella ricca di volant che mi piace veramente molto ma è queste cose queste maglie molto particolari con volant arricciature mi piacciono tantissimo qui abbiamo una maglia che abbiamo già visto precedentemente che il top 119b taglia 36 44 a due pallini su quattro di difficoltà che è caratterizzata anche questa ovviamente da taglio ampio a spalle scoperte è il top perfetto per l'estate la giacca che vediamo qua invece alla 118 le taglie dalla 34 a 44 quattro pallini di difficoltà su quattro quindi è di difficile realizzazione quindi solamente per le più esperte ha un taglio ben modellato grazie ai fianchetti sagomati e alle pence caftano numero 111 taglia 36 44 a un pallino su quattro di difficoltà adattissimo per la spiaggia per la piscina per andare a fare una passeggiata per andare a prendere un aperitivo con sotto il costume ed è molto pratico quindi facile da confezionare e caratterizza questi spacchi laterali belli chic e che rendono l'abito portabile e comodo bellissimo questo abito numero 106 taglia 36 44 a tre pallini su quattro di difficoltà ed è un modello elegante femminile con questo incrocio sul davanti che mi piace tantissimo e poi è tagliato in sbiecco con oro asimmetrico quindi questa linea molto morbida è data proprio per questo motivo qui abbiamo gli short che sono a tre pallini su quattro difficoltà sono il numero 110 a taglia 36 44 e anche questo un capo che non deve mancare il nostro guardaroba o nella sua nostra valigia per le vacanze ed è una versione semplicissima ecco questo è un modello retro retro sempre di moda secondo il mio parere perché mi piacciono tantissimo gli abiti così per l'estate è il numero 122 la taglia 34 44 a tre pallini su quattro di difficoltà è caratterizzata questa bretelle in tinta unita che contrastano diciamo in contrasto con il giallo del motivo del tessuto e anche la cinta riprende il giallo mi piacciono molto questi contrasti di colori di fantasie ovviamente possiamo scegliere anche di farlo tutto dello stesso colore taglie più abbiamo questa bellissima blusa che è la numero 125 taglia 44 52 a due pallini su quattro di difficoltà è una blusa con un corpino incrociato maniche a volant e ampia scollatura che è stata profilata con questo nastro in pizzo che la rende elegante è fantastica mi piace tantissimo anche questa mi piacerebbe farla a me piacciono molto queste queste maglie così particolari e la vediamo anche qui qui abbiamo la giacca numero 128 taglia 44 52 3 pallini su quattro di difficoltà è stata realizzata in seta lucente e sottili puovere ai vola dei vola nelle maniche bottoni gioiello e linea dritta e definita da fianchetti arrotondate dalla scollatura girocollo anche questo ricorda un po' la moda chanel i pantaloni che vediamo qui sono il numero 124b le taglia 44 52 due pallini su quattro di difficoltà e sono pantaloni cargo per la sera e noi diciamo ma veramente certo perché d'estate possiamo usare tutto quello che vogliamo inoltre questo è stato realizzato con un tessuto molto particolare un tessuto molto bello diverso dal tessuto che normalmente viene utilizzato per cucire questo tipo di pantaloni è al cinturino elasticizzato per il massimo di comfort e il cinturino anche alla caviglia che ovviamente possiamo decidere di mettere o meno abito numero 126 taglie 44 52 due palline su quattro di difficoltà un abito fantastico morbido elegante femminile e che altro? non saprei come definire questo abito perché è veramente bellissimo mi piace veramente molto è veramente chic un abito che non passerà mai di moda perché è chic e aveva ragione Coco Chanel quando diceva la moda passa lo stile resta e questo è un abito di stile ed è stata realizzata in raso la blusa invece che vediamo qua è la numero 127 taglia 44 52 due pallini su quattro di difficoltà caratterizzata da queste maniche molto particolari perché sono annodate con un fiocco la linea è semplice lo scollo è tondo e ha due pence al seno la blusa che abbiamo visto anche prima è la numero 125 A taglia 42 52 due palline su quattro corpino stile impero maniche volant per la blusa in seta leggera e fluida ed eccola qui veramente bellissima mi piacerebbe rifarla questa poi tutto quello che ha in croci queste cose mi piacciono tantissimo lo chemisier invece è il numero 123 le taglie 44 52 tre pallini su quattro di difficoltà ed è stata realizzata in un tessuto lucente e la linea è chimisier ideale anche per la sera quindi lo possiamo indossare sia la mattina che il pomeriggio e qui è proposto appunto con le maniche corte a battonatura nascosta e spacchi laterali stondati qua abbiamo pantaloni cargo pantaloni anche questi che si possono indossare anche la sera perché abbiamo utilizzato un tessuto elegante sono il numero 124 A taglia 44 52 due pallini su quattro raso lucido appunto e le tasche sono arricchite da questi nastri cinturini e nastro in grosgrain molto particolari mi piacciono molto qua abbiamo tutta la moda bimbi e abbiamo l'abito numero 123 che vediamo qua le taglie una 104 alla 128 a due pallini su quattro di difficoltà e qua invece abbiamo la gonnellina che è la numero 132 le taglie dalla 104 alla 128 a due pallini su quattro di difficoltà questa moda per bambine mi piace tantissimo ho preso le t-shirt numero 130 che è una pallina un pallino su quattro di difficoltà quindi è facilissimo poi abbiamo l'abitino che è il numero 129 che è sempre un pallino su quattro di difficoltà e poi gli short che vediamo qui gli short che sono il numero 131 taglia 104 128 anche questi sono di facile realizzazione questa è la cucitura sono le cuciture creative di cucito creativo e abbiamo allora il portaocchiali veramente è carino io l'avevo fatto un portaocchiali questo è un pochettino più elaborato che grazie al moschettone può essere portato al polso di agganciato alla borsa da spiaggia insomma oppure al pantalone come vediamo qua la mini bag in vacanza non se ne può più di borse quindi abbiamo una borsettina piccolina dove inserire i soldi dove si rivreggiavi dove inserire il cellulare e tutto al sicuro lo mettiamo al collo la visiera perché bisogna sempre coprirsi dal sole perché il sole è nocivo il sole fa male alla pelle il sole fa invecchiare quindi facciamoci la visiera e regala comunque al viso un fascino tutto estivo e qui ci sono tutte le spiegazioni su come si fa abbiamo sfogliato insieme burda style di luglio 2022 fammi sapere quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più io ho veramente tantissimi non saprei cosa scegliere perché veramente tanti più di tutto mi piacerebbe realizzare questo prima di tutto perché è facile è veloce e in questo periodo non ho molta voglia di cucire perché comunque c'è molto caldo però veramente mi sono piaciuti davvero tantissimi capi quindi secondo il mio modesto parere è un numero da comprare mi raccomando iscrivete al canale clicca sulla campanella condividi i miei video e lasciami un bel commentino che mi fa sempre piacere anche per dirmi semplicemente che sei passato che sei passata che ti piacciono i miei video oppure anche qualche suggerimento insomma qualsiasi cosa io ti ringrazio tantissimo in anticipo ti mando un grande bacio sartoriale creativo ma soprattutto terapeutico ciao e al prossimo video ciao ciao